Questo è l'itroscalo dove noi facciamo la nostra scuola, le nostre addestramenti. Ora impara. Questo è l'itroscalo di Milano, costruito per modere di Mussolini nel 1930 come pista di decollo per i due volanti. Oggi è uno dei parchi preferiti dai milanesi per sfuggire al caldo della città. Qui ha sede una delle basi operative della SINSA, la scuola italiana Caneta Salvatare. Che bello!